Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Intanto questa notte pulizia meccanizzata dei sottopassi dalle 23.30 a 1.30 chiude il sottopasso Statuto, dalle 2 alle 4 chiude il sottopasso Rivoli. La linea 16, circolare sinistra, sino al 20 marzo da Corso Regina Margherita è deviata in Corso Principe Eugenio, Corso Beccaria, Piazza Statuto, Via Cibrario, Corso Tassoni, percorso normale. Sino al 20 marzo la linea 10 in direzione Rondo Forca è limitata in Piazza Statuto. Anche domani le linee 39, 82 e 84 subiranno deviazioni di percorso in Moncalieri. Veniamo alle notizie di domani, martedì 13 marzo. Da domani a sabato controllo mobilità in Via Santa Teresa, San Secondo, Cernaia, Sacchi, Principi d'Acaia, Monginevro, Dante di Nanni, Duchessa Iolanda e sui corsi Racconigi, Francia e De Gasperi. Domani mattina alle 10.30 presso la chiesa del Santo Volto, Via Baldellatorre, precetto pasquale delle Forze Armate. Domani mattina è previsto un presidio dalle 9 alle 13 dei dipendenti Italia Online fronte alla sede del Consiglio regionale di Via Alfieri 15. Non ci sono altre notizie, buona serata, buona settimana e buon viaggio. A domani. Grazie.